Legnano storia, l'immenso patrimonio dell'istituto Barbara Melzi di Legnano. Ben 15.000 volumi dal 600 ai nostri tempi. Capita che, spolciando carte ingiallite dal tempo dalle stesse, riemergono alcune notizie interessanti. Tali sembrano essere quelle ricavate da una lettura del 1939, con la quale il podestà in carica, avvocato Alfredo Carusi, appellandosi a simpatico civismo, invitava donna Giulia Amigazzi a concedere biblioteca e pinacoteca del suo istituto al comune di Legnano, previa intestazione della raccolta al nome dell'accedente. La risposta negativa, dettata dal desiderio di non violare la proibizione assoluta di esportare libri di qualsiasi genere dalla biblioteca, come da volontà espressa dal conte Francesco Melzi e ripresa poi dalla figlia Barbara, ha indotto il ricercatore a ritornare su un tracciato già percorso, per affondare la memoria tra i fondi di quel patrimonio documentario, estendendo l'indagine per economia di spazio fino alla fine del Cinquecento. Anche se sulla biblioteca sono redate più di una tesi di laurea, non si può dimenticare che una prima sistemazione della stessa fu effettuata nel 1880 da madre Barbara Melzi. Grazie al suo zelo, conservate in vari faldoni, spesso assicurati da coperte pergamenacee o rilegati in velluto verde, ci sono pervenuti numerosi documenti comprovanti nobiltà e attività delle famiglie, Pusterla, Recaltati, Melzi, Salazar. Dalla fine del 1300 tutto è un susseguirso di strumenti di compravendita, di bandi e deditti, di notificazione, di manipoli di lettere, di alberi genealogici, non da meno altre concessioni munite di preziosi sigilli con immagine impressa di Sant'Ambrogio. L'intreccio dei rapporti tra le varie famiglie ovviamente chiama in causa anche interessi contrastanti, beghe di varia natura, alterna onnipotenza delle umane sorti. Nel susseguirsi nella documentazione emergono dati che riguardano il fiume Lona per il codimento delle sue acque, commenti al codice napoleonico, affrancazione di decime, mappe, carteggi per un ingresso di sposi in Milano, decreti di giurisperiti, miscellanie di poesie, note di spese contratte per l'abbigliamento. Preziose pergamene dal 735 al 1789 Di non minore interesse sono le pergamene, provenienti per la maggior parte dal fondo della famiglia Pusterra di Tradate. Una volta estinta la stessa, passarono in Melsi e nel 1875, alla morte di Francesco Melsi, toccarono a Donna Barbara che li lasciò in eredità al suo istituto. Tutte reggestate da un ricercatore lignanese con indicazione delle caratteristiche salienti, misure comprese, coprono un arco di tempo che va dal 735 al 1789. Dal coacervo emerge una pergamena del 1195, giugno il 14, in buono stato di conservazione, eredata in minuscola diplomatica, di centimetri 21 per 29, rogata da quattro notai. Si tratta di una sentenza emanata dal giudice milanese Pala Guerra e dai consoli Ugo e Alberto Lampugnani per un'avvertenza riguardante Guidone e Anselmo D'Alegnano, consoli e capitani di Mellegnano. Nel documento si dichiara che un certo Pianello, Massaro di Pudriano, doveva rifare il muro di cinta della rocca di Mellegnano, secondo la richiesta dei consoli. Pianello si rifiutò, sostenendo di non poter essere costretto a farlo. Perciò fu sciolto dall'obbligo da parte dei giudici per la richiesta avanzata. Tra le pergamene colpisce anche un fascicolo di undici pezzi cuciti insieme, datati dal 1307 al 1394, riguardanti convenzioni, testamenti, disposizioni per beni immobiliari. Troppo lungo sarebbe il discorso se si dovesse trattare di tutte, benché piaccia ricordare che gli atti del periodo mediovale riguardano anche riconoscimenti imperiali, assoluzioni papali, accordi con le chiese locali e milanesi. Più di una volta sono chiamati in causa monasteri, come quello degli umiliati di Baggio, che poi diventano gli olivetani. Farà brividire una pergamena datata a 1480, in marzo il 21, alla fine della quale si legge che Giovanni Bastiano fu condannato e decapitato dal maestro di giustizia sulla piazza maggiore di Lodi. Secondo gli atti del 1500 al 1700, i notai continuano a rogare vendite di terreni, ricognizioni di enfiteusi, procure concesse dei vari pusterra. Si affiancano di promi rilasciati dagli olivetani, anche adorni di immagini, come quella del 1594, luglio il 20, concesse a Genova. Affiora pure l'importanza del Tribunale dell'Inquisizione, detta Santa. Nel novembre del 1669, Tommaso Pusterra, già inquisitore a Mantova e a Pavia, ebbe lo stesso in carico a Como. Non da meno l'aggregazione del reverendo Francesco Maria Pusterra, canonico ordinario del Duomo di Milano, al Collegio dei Notai, secondo una bella pergamena del 1656, dotata nella fascia superiore di stemma e munita di scillo pendente in teca metallica. Grazie a tutti.